Ciao a tutti, mi chiamo Gianluca Picchiottino, sono un atleta del centro sportivo delle Fiamme Gialle e cresciuto nelle giovanili dell'Atletica Libertas Grandes Livorno e la mia specialità è la 20 km di marcia. Io sono Davide Finocchietti, marciatore della Libertas Unicusano Livorno e marciatore della Nazionale Italiana. Faccio questo sport da 12 anni, ho iniziato correndo e poi mi sono specializzato nella marcia. Nella mia carriera ho vinto qualche titolo italiano, poi ho vinto un campionato europeo Under-18 e sono arrivato quarto ai giochi olimpici giovanili di Buenos Aires. Adesso faccio l'atleta semiprofessionista perché ho finito la scuola l'anno scorso, quindi mi dedico al tempo pieno all'atletica e in più studio all'università, alla facoltà di scienze politiche. Allora, a spiegare è facilissimo, praticamente la marcia è in evoluzione del cammino. Per marciare ci sono solamente due regole scritte, ovvero che la prima è che bisogna sempre tenere contatto con il terreno, ovvero che un piede deve essere sempre attaccato al terreno a differenza della corsa e la seconda regola è che il ginocchio in fase di attacco deve risultare completamente bloccato fino al passaggio sulla verticale. Allora, la marcia è una specialità dell'atletica leggera e è una specie di cammino in cui non si possono staccare entrambi i piedi da terra, pena la squalifica, e il ginocchio d'attacco, cioè quello che sta andando avanti, deve essere bloccato. Anche questo pena la squalifica. Per marciare forte bisogna marciare bene e quindi bisogna essere molto fluidi, con la schiena dritta, le braccia che lavorano bene e le anche che si muovono fluidamente avanti e indietro, ma anche salendo verso l'alto e uscendo lateralmente. Io ho cominciato a fare atletica molto presto, avevo 4-5 anni, non mi ricordo. Facevo di tutto e con i passaggi del tempo mi sono apprezzato molto più volentieri alle varie discipline dell'endurance, ovvero mezzofondo e marcia. Nella categoria cadetti, quindi under 14, 16 anni, mi ricordo, ho fatto la scelta di fare solamente marcia. Allora, io sono sempre stato innamorato della fatica. Ero uno che, quando tutti si divertivano a giocare a pallone, anch'io, vabbè, mi ci divertivo, però ho finito di giocare a pallone e poi mi mettevo a correre per conto mio, finché non arrivavo a casa morto da bambino. E niente, quindi ho cominciato a fare atletica e a correre, e poi quando ho capito che la marcia era altrettanto faticosa, se non di più, da più piccoli, perché le distanze sono più lunghe, mi sono, diciamo, cominciato ad avvicinare a questo mondo. Poi vedevo il mio compagno di allenamento, che adesso c'è Luca Picchiottino, e allora ho voluto provare, insomma, era inverno, mi ricordo, avevo una decina d'anni, eravamo fuori dal campo scuola, di fronte allo stadio, e il mio allenatore mi ha fatto fare un allungo per vedere, insomma, se ero portato oppure no, e poi da lì è cominciato tutto. Innanzitutto c'è da fare una distinzione tra preparazione venale e gli allenamenti in previsione di una gara a distanza, diciamo, ravvicinata o in avvicinamento. La preparazione venale funziona così, si allena quasi tutti i giorni, sia mattina che pomeriggio, facendo principalmente lavori di costruzione, che siano lavori, diciamo, propensi a costruire una base, ovvero tanti chilometri lenti e tanto lavoro muscolare in palestra, di propriocettiva e lavori alternativi. Quando ci si avvicina alla gara magari si diminuisce leggermente il chilometraggio, si mantengono sempre almeno 9-10 allenamenti settimanali, e quindi quasi tutti i giorni è bigiornaliero, e si comincia a fare qualche lavoro, magari più spinto, e a cercare di trovare, diciamo, il ritmo gara. Allora, la nostra specialità è una specialità di endurance, e la gara che andremo ad affrontare un domani, perché il prossimo anno ci sarà il passaggio di categoria, sarà la 20 chilometri. E quindi i nostri allenamenti sono volti soprattutto a fare tanti chilometri, 20, 25, fino anche a 30 chilometri di lungo, e facciamo una seduta settimanale di potenziamento. Io personalmente molto spesso faccio delle salite veloci, perché avendo gambe molto muscolari ho bisogno di tenere alta questo aspetto dell'allenamento. E poi in avvicinamento alle gare invece cominciamo a fare dei lavori più specifici, come ripetute, variati, quindi magari un chilometro forte, un chilometro piano, oppure due chilometri forti, poi due minuti di riposo, due chilometri forti, due minuti di riposo. Prima gara di marchio ero esordiente B, avrei avuto 9-10 anni, è stata una gara di 600 metri, quindi un giro e mezzo, sembra nulla ma all'età di 9-10 anni era un'eternità. È stata bella perché è stata una gara in cui mi approcciavo per la prima volta su questa nuova disciplina, non sono partito fuori, sono partito dietro, poi essendo una gara di endurance per quell'età, e mano a mano che gli altri partivano, che erano partiti fuori e scoppiavano, io sono riuscito ad entrare sotto e c'è stata anche la prima vittoria. La mia prima gara ero esordiente, quindi quinta elementare, prima media, non mi ricordo, eravamo a Colle Salvetti, era la gara di un chilometro, mi ricordo vinsi, e niente, insomma, avevo fatto pochissimi allenamenti, era una cosa nuova e fu divertente. Allora, momenti di difficoltà durante la gara ce ne sono parecchi, soprattutto se si allunga la distanza, perché diciamo che fino a 5 chilometri e 10 chilometri per noi si considerano distanze sprint, quindi non ci sono grossi problemi di tenuta, mentre quando si affronta una 20 chilometri, dopo la metà gara può succedere di tutto, e se non ti sai di usare bene con le tue energie, dopo 12-13 chilometri, puoi rischiare di rimanere a secco, ovvero senza energie, e l'ultima parte di gara, che sono gli ultimi 6-8 chilometri, possono essere veramente, veramente lunghi. Allora, durante una gara di endurance, soprattutto una gara lunga, c'è sempre almeno un momento di crisi durante la gara, in cui le gambe sono appesantite, in cui i piedi non spingono più come all'inizio della gara, e in questi momenti di crisi si pensa a volte di mollare, e niente, di solito è intorno al 60-70% della competizione, e bisogna imparare a reggere la crisi, non solo a reggerla, ma anche a superarla, è il momento in cui molte persone rallentano, diciamo per riprendersi anche mentalmente, invece è proprio il momento in cui bisogna aumentare, perché aumentando non dai la possibilità alla tua mente di sovraffare sul corpo. E poi una volta superata la crisi, a volte ti prende un'adrenalina, una incitazione tale da chiudere veramente forte la gara, insomma, e poi chi riesce a sovraffare questa emozione poi vince. Ce ne sono due, il primo è la prima volta in nazionale, che è successa in un incontro internazionale indoor tra Italia, Francia e Germania nel 2015, quindi si parla di più di cinque anni fa. Avevo lavorato molto l'inverno, desideravo provare ad andare in nazionale, ci sono riuscito, e nonostante sia stata una gara tiratissima, sono riuscito comunque a conquistarmi una medaglia di bronzo, che per me è stata come se avessi vinto un mondiale, completamente inaspettata. La seconda volta, non è stata proprio una gara, ma è stata nel 2018, quando ho firmato il contratto per entrare in Fiammi Gialle, trasformando la mia passione anche in un lavoro. Il ricordo più emozionante per me è la 20 km che ho fatto quest'anno, a inizio anno, perché ho passato gli ultimi due anni prima di quella gara, praticamente senza gareggiare, c'è stato un periodo dove volevo smettere, dove avevo dei problemi alla schiena che non riuscivo a risolvere, e insomma poi mi sono fatto aiutare da alcune persone che non finirò mai di ringraziare e quando sono tornato a gareggiare, anche se non ho fatto chissà quale risultato, per me è stato emozionantissimo. Ogni volta che tu infortuni e devi stare fermo e non puoi gareggiare, è un momento molto negativo, perché te sei lì, che sei pronto a gareggiare insieme a tutti i tuoi altri amici, compagni, rivali, e vedi che gli altri gareggiano e tu stai a casa, vedi che gli altri magari migliorano, vincono, fanno i personali, si divertono tutti insieme, e te rimani sul divano a casa che l'unica cosa che puoi fare è fargli i complimenti. Purtroppo nella mia breve per ora carriera ho avuto diversi infortuni che mi hanno tenuto fermo. Prima di questo ne ho avuto un altro grave nel 2000, grave, niente di grave, però che mi ha tenuto fermo una buona parte d'inverno nel 2019, che ho risolto solo ad aprile, e però quell'infortunio mi ha fatto capire che con tutto il lavoro alternativo, che con la determinazione che ci metti, nonostante tu sia indietro di mesi e mesi di preparazione, puoi comunque salvare una stagione, perché l'anno scorso, in tre mesi, sono riuscito a fare un minuto di personale sulla 20 km, quindi va bene così. Dopo l'European Under 18, sì, il mio corpo era cambiato, avevo sempre avuto questo tipo di problemi, però crescendo il mio corpo non li compensava più, diciamo, e quindi ho cominciato a fare visite su visite da ortopedici, osteopati, medici, fisioterapisti, e nessuno riusciva a capire cosa ci fosse, insomma. Allora poi, io dopo, nel settembre del 2018, ho chiesto, diciamo, aiuto a una counselor, che si chiama Monica, e insieme poi, curando molto di più l'aspetto emotivo, insomma, l'aspetto della determinazione, abbiamo cominciato a fare le visite da alcune persone, e poi, piano piano, nei mesi, col duro lavoro, ne siamo venuti fuori. Diciamo che, alla fine sono fiero di me stesso per quei due anni lì, perché non era facile uscirne, diciamo, era il lavoro che dovevo fare io con le mie mani. Passavo due ore al giorno a fare stretching, un'ora e mezzo in piscina, poi andavo agli allenamenti, poi studiavo, non mi fermavo dalla mattina alle sette fino alle dieci, dieci e mezzo la sera, con la piscina a volte, insomma. Allora, dovevo gareggiare questa domenica agli italiani di Modena, ma un piccolo fastidio antibiale destro mi ha tenuto fermo a casa, mi ha dispiaciuto un sacco, perché avevo lavorato molto bene, sia prima dell'infortunio, che dopo l'infortunio che ho avuto a metà agosto, con tutto il lavoro alternativo, e ce l'avevo proprio messa tutta, e mi dispiace non essere riuscito a partecipare, però ho già la mia idea di provare a riscattarmi a dicembre, che c'è un campionato italiano sulla 20 km a Ostia, e lì punto ad andare bene. Allora, l'ultima gara per me è molto, molto importante, perché ho messo a frutto il grosso lavoro mentale che ho fatto. Io sono sempre stato, diciamo, molto emotivo prima delle gare. Prima dei campionati europei nel 2018 non ho dormito una settimana, quindi vi potete immaginare in che condizioni ero il giorno della gara. Invece questa gara qui ho dormito tutta la settimana, e anche la sera prima della gara, che non mi era mai successo in tutta la mia vita, e la mattina mi sono svegliato, diciamo, con una serenità che mi ha permesso di essere lucido in gara. Ogni volta che c'era un cambio di ritmo durante la gara o un mio avversario provava ad aumentare e andare via, questa lucidità e quindi, diciamo, questo aver messo da parte le emozioni mi ha permesso di esprimermi al meglio e mi ha permesso di, insomma, capire come stava andando la gara e come, che strategia, diciamo, adottare. Perché poi, alla fine, le strategie, sì, si adottano prima della gara, ma durante la gara poi cambiano, insomma, gli avversari non si sa cosa vogliono fare o cosa faranno, insomma. È il primo titolo italiano che vinco dopo due anni nella distanza che conta, perché la 10 km è under 20 la distanza che conta e bene, sono molto contento. Anche il tempo è un buon tempo, si può fare molto meglio, ma la gara è stata una gara tattica, quindi siamo partiti piano i primi chilometri e quando parti piano i primi chilometri poi non viene fuori quel risultato che speri. Però poi abbiamo fatto gli ultimi due o tre veramente, veramente forti e sono contento di come hanno reagito alle mie gambe i tipi giri, insomma. Allora, il mio rapporto con Davide è sempre stato un rapporto fraterno, l'ho sempre visto come un fratello minore, perché quando io, diciamo, stavo creando il mio percorso d'atleta, anche se ero ancora giovane, lui si stava apprezzando alla disciplina, quindi spero innanzitutto di avergli dato uno stimolo in più. Poi mi ricordo molto bene che io e un altro ragazzo che adesso è il secondo allenatore di marcia dell'Albertas, spesso lo rimproveravamo perché spesso combinava qualche casino, faceva qualche cosa che non andava bene e quindi c'è stato sempre un rapporto, diciamo, familiare tra di noi. E quando uno dei due va bene, siamo per assurdo più contenti della stessa persona che ha fatto quel risultato. Cioè, quando lui l'ho visto, dopo tutti i problemi che ha avuto, vincere un europeo nel 2018, è stata come se fossi stato io o salire sul gradino più alto del podio. È stata un'emozione bellissima. Allora, ho iniziato... Io giuro che abbiamo cinque anni di differenza. Quando ho iniziato, diciamo, quando si è più piccolo, i cinque anni si sentono molto di più di quando poi si cresce. E quindi lui, insomma, è sempre stato l'uomo da provare a stare con lui durante alcuni allenamenti, quando eravamo più piccini. Adesso, invece, è l'uomo con cui stare insieme durante gli allenamenti, fare gli allenamenti insieme, tirarsi. Ossia, a volte ci sono allenamenti dove mi metto davanti e tiro io. Lui è un professionista, quindi vuole competere per provare a fare, insomma, le gare più importanti a livello assoluto. Però non nascondo il fatto che il prossimo anno, che gareggeremo insieme, che anch'io entro nella categoria assoluta, mi metto un numero per batterlo, insomma. È sempre stato un sogno battere proprio il mio compagno allenamento in gara e il prossimo anno, insomma, sì, cominceremo, insomma, io proverò a farmi valere, sì. Il prossimo anno, pandemia permettendo, ci sarebbero le Olimpiadi del 2020, che sono state rimandate in un anno. Mi mancano ancora 36 secondi per poter, diciamo, entrare in questo mondo, in questa ottica. Il mio obiettivo del prossimo anno sarà sicuramente abbassare i 36 secondi, il mio personale, solo 20 chilometri. Però so che solamente i 36 secondi potrebbero non bastare per andare a Tokyo, anche se noi gareggiamo a Sapporo per via del caldo, del clima e tutto. Quindi l'obiettivo è quello di migliorare il più possibile per riuscire a strappare questa convocazione per il sogno di ogni atleta. Diciamo che sono molto convinto di quello che voglio fare nella vita. Cioè voglio fare l'atleta, voglio diventare un professionista e voglio continuare a studiare quello che sto studiando. Nel futuro, diciamo, c'è un obiettivo fisso che è il sogno, penso, di qualsiasi atleta e è Parigi 2024. Ne parlavo domenica dopo la gara con il DT della Nazionale e mi ha detto che insomma bisogna cominciare a pensarci a Parigi 2024. 20-24, io non gli ho detto che lo sogno da dieci anni, però è così. E niente, quindi lavoreremo per realizzare questo sogno. Volevo ringraziare ovviamente il Centro Esportivo di Fiamme Gialle perché come ho detto prima mi ha trasformato la mia passione in un lavoro quindi mi sento un po' come un privilegiato perché avere un lavoro che ti permetta di fare ciò che ami penso sia il sogno di qualsiasi ragazzo indipendentemente dal campo, non solo in ambito sportivo ma anche in ambito lavorativo. E volevo ringraziare anche il mio allenatore che mi ha cresciuto sino a quando ero piccolo nonostante non andassi bene e è riuscito a tirarmi su e a migliorarmi anno dopo anno. Ovviamente anche la Valberta che mi ha cresciuto sia a livello sportivo ma anche a livello umano con tutte le trasferite che si sono fatte insieme con tutti i vari allenatori del settore giovanile. Sono percorsi che auguro ad ogni ragazzino di fare perché oltre a la scuola c'è bisogno di un grosso input motorio che lo sport può dare.